Signore e signori buonasera, dalla sala stampa del Palla Forum Fontevivo di Saminiato, sotto la regia di Roberta De Rosa, Angelo Capozio, Gianni Cecconi e Luigi Magliano per la telecronaca della undicesima giornata del campionato Serie B nazionale tra i padroni di casa. Blucart e Etrusca Saminiato in maglia bianca alla destra dei vostri teleschermi contro Solbat e Piombino. Arbitrano l'incontro i signori Stefano Bonetti di Ferrara e Lorenzo Bianchi di Rimini. Il roster di partenza dell'Etrusca Blucart viene schierati con il numero 2 Tommaso Tempestini, numero 6 Andrea Zita, numero 7 Ferdinando Nasello, numero 9 Roberto Bob Bertolini e il numero 66 Andrea Chiriatti. Il piombino scende invece sul perché col numero 3 Edoardo Pedroni, numero 6 Alessandro Procacci, con il numero 8 Edoardo Persico, con il numero 9 Malbasa e con il numero 41 Edoardo Fontana. Tutto pronto per l'avvia di questa undicesima partita, scendono sul perché gli atleti, saluti di Rito. Coach Marco Andreazza della Solbat più o meno sta andando le ultime indicazioni ed è tutto pronto per l'avvio di gara. Al salto Chiriatti e Persico. Palla in mano a Chiriatti che riceve dalla sfera Zita, Zita Bertolini, Tempestini ancora verso Bertolini. Nasello, Nasello scarica nel pitturato ma intercetta Fontana, Persico ancora fuori per il numero 6 Procacci. Persico si gira, Tiro di Persico non va, la sfera viene conquistata da Nasello, Zita, Zita in contropiede, Zita, Zita, lascia la sfera a Tempestini. Tempestini, Bertolini ancora Tempestini, Zita, Chiriatti, Nasello. Si gira molto bene Nasello, sbatte la palla sul ferro, la palla non entra. Nel capovolgimento di fronte, Procacci in palleggio, Procacci va fino a fondo, supera Bertolini e realizza un canestro. Etrusca Blu, carte 0, Piombino 2, Bertolini, ferro, palla ancora in mano a Fontana. Procacci lascia la sfera a Fontana, Pedroni riceve in questo momento, Malbasa, Fontana, 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 si gira, ferro e la palla entra saltando sul cerchio del canestro. Tempestini, Etrusca Blu, carte 0, Piombino 4, 8 e 15 da giocare per questa prima frazione, riceve Bertolini, esce dai blocchi Tempestini. Tempestini, Tempestini, arresto tiro e non va, sfera ancora conquistata da Fontana. Procacci, Malbasa. Recupera la sfera Nasello, Zita, velocissimo per Chiriatti, ma c'è un fallo di Pedroni su Andrea Chiriatti. Buonasera a tutti, la differenza nelle prime battute è una maggiore precisione di Piombino rispetto a San Mignato, che comunque ha costruito un paio di belle azioni, soprattutto una con Nasello che ha preso bene la linea di fondo. Interlocutori, ovviamente, interessante è il doppio playmaker Tempestini-Zita per la squadra di Federico Barsotti, con due lunghi come Chiriatti e Nasello, che sono anche ragazzi atletici, diciamo, di peso, con Bertolini libero di poter colpire dalla media. Intanto mi sembra che Piombino con Fontana abbia colpito bene anche dalla lunga. Infatti Piombino si porta a sette, la Blucart è ferma a zero, dopo sette minuti e quindici riceve Tempestini, Chiriatti, 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 chiuso, non va, ancora Chiriatti fuori per Tempestini, 11 secondi da giocare, palla per Bertolini sul passaggio filtrante di Tempestini e realizza i primi due punti la Blucart, Blucart è due, Solbart, Piombino, sette. Procacci per Fontana, palla per Persico, scarico per Pedroni, tiro di Pedroni dalla distanza, non va. La palla, la palla si perde, si perde sul fondo, la rimessa è di Fontana. Fontana per Procacci, Procacci supera Chiriatti facilmente e sbattere la palla sul ferro, conquista la sfera Nasello, riceve Zita in tutta velocità, Zita, Zita, scarica per Tempestini, Tempestini libero, ferro pieno, Nasello smanaccia, la palla va a Manacchiriatti, ancora Nasello, Zita, Zita per Bertolini, ancora Tempestini, Tempestini, c'è un fallo. Sì, un fallo di Malbasa, però queste azioni mi sembra, Gianni, ora chiedo anche il tuo conforto, mi sembra che tra spaziature, posizioni, cambi, mi sembra che ci sia molta confusione. Sì, sì, parecchia, però ci sto guardando ora dai primi tre minuti di partita, si sta un po' riquadrando la squadra dell'Etrusca, perché stanno girando di più la palla, all'inizio no, ora invece girano di più la palla e trovano più anche la via del canestro. In questo caso abbiamo visto che Nasello ha tirato praticamente libero e questo è confortante. Intanto Bertolini realizza un canestro, porta la Blucart a 4, Piombino è ferma a 7, fase offensiva e Persico nel pitturato, scarica per Fontana, Fontana da 3 e realizza 2 su 2 da 3 per Fontana. Etrusca Blucart 4, Piombino 10, Tempestini, Nasello, ancora Tempestini, palla filtrante per Chiriatti, gli sfugge la palla di mano, la palla si perde sul fondo. 5-18 da giocare per questa prima frazione, alla rimessa Fontana per Procacci. Procacci, Zita. Si va a cercare un bel fallo Procacci che in questo momento è il motore trainante del Piombino, con un Fontana cecchino ma è Procacci che sta dando i ritmi alla squadra e in questo momento anche la partita. Gianni parlava prima di circolazione, non solo circolazione perimetrale buona ma anche molto veloce rispetto alle ultime uscite. Sì è vero, molto molto veloce. Loro da quello che ho visto stanno cercando di scardinare la parte della difesa della Blucart con i tiri da fuori e ci stanno riuscendo perché per ora hanno fatto un 3 su 3 da fuori. Questo è una radice molto lunga, bisogna cercare di limitare molto molto questi tiri. Intanto Procacci come diceva Gianni realizza una tripla, Tempestini, Giacomelli, Bertolini che non si gira, è rimasto fermo pensando ci fosse l'aiuto probabilmente ma sono in città. Ancora Bertolini, Ferro e la palla va in mano a Fontana. Buona difesa comunque quella di Piombino, Ferro, hanno fatto forse un paio di errori, non di più. Etrusca ferma a 4, Piombino a 13, Procacci si butta nel pitturato. C'è ancora un fallo a passi di Procacci, passi di Procacci e la possesso palla torna all'Etrusca Blucart e Samminiato. Tempestini alla rimessa, riceve Zita. Zita, Zita di fronte a Sia Pedroni lo supera, scarica per Giacomelli. Giacomelli, Ferro di Giacomelli, sfera che va in mano a Malbasa. Malbasa, d'Orde Malbasa. Malbasa fino a fondo, scarica per Pedroni, tutto solo da 3, Ferro pieno. Primo errore, primo errore dal perimetro se non mi sbaglio. Primo errore e ora c'è i sfondamenti di Giacomelli. Se ha travolto Pedroni che stava prendendo posizione, l'arbitro logicamente era punito. È entrato Seba al posto di Naso, di Masello. Sì, c'è stata una sostituzione in precedenza, è entrato Perin e è uscito Naseba. Più che 13 punti di Piombino, Gianni, che ci possono stare con dei bei tiri da 3 punti, sono i 4 punti di San Mignato che non tornano. Siamo soltanto all'inizio comunque. Pedroni, si fa soffiare la palla da Giacomelli. Giacomelli, canestro! Fallo di Pedroni, considerato intenzionale, antisportivo. Anche perché forse ce n'era uno prima a metà campo. Sì, 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 assolutamente. Bravo Giacomelli che si è fatto perdonare immediatamente il fallo in attacco precedente. Segno di una bella personalità, assolutamente. Intanto nelle file della Piombino era entrato Iardella in precedenza a posto di Procacci. Ora esce Pedroni e rientra Procacci. Giacomelli realizza il tiro libero, porta la blu carta a 7, rimessa per le file dell'Etrusca Blu carta che verrà eseguita da Tempestini per Zita. Zita, Giacomelli, Giacomelli dalla distanza a ferro. La palla viene recuperata da Iardella. Buono, buono il tiro di, preso bene il tiro di Giacomelli anche se non è entrato. Continua il gioco con due playmaker più un per in a questo punto in posizione... Sbaglia... Fallo e fa canestro. Sballa Fontana, ripiglia la palla Fontana e realizza Canestro e subisce il fallo. Non ci stava il fatto che riprendesse la palla Fontana per Innes e fatto beffare. No, Bertolini. Dato fallo a Bertolini. Bertolini. Esce Zita e entra Benitez. Sì, in questi casi, e siamo sempre lì col solito discorso, il tiro, il canestro valido e il fallo, questo non deve succedere. Te, tiri, io non ti faccio far canestro e faccio fallo. Poi si va alla lotteria dei tiri liberi. In questo caso è un tiro da tre punti. Per Innes e per Tempestini. Giacomelli, Per Innes. Ancora Giacomelli. Tempestini. Benitez, Benitez fino in fondo. Recupera Bertolini. Ferro. Per Innes. Ma la palla va in mano a Persico. 2.49 da giocare. Etrusca Blue Kart 7. Sol batte più o meno 16. Procacci porta la sfera nella metà campo. Riceve Persico. Si gira Persico. E realizza un canestro. Bel lavoro sul piedeperno di Persico. Cosa non facile. Anche se Barsotti chiede qualcosa, maggiore attenzione agli arbitri. Al riguardo. E comunque Barsotti deve richiamare i suoi. Perché anche se il gioco sta velocizzandosi in attacco. Però mancanza di precisione. Anche l'ultimo tiro di Bertolini. Molto bello. Spettacolare. Ma molto difficile. Con alta percentuale di rischio. Io sto guardando più che altro la difesa di Piombino. Sta facendo una difesa sporca ma giusta. E anche l'equilibrio dei falli si nota anche su questo. Riuscendo sempre a tagliare e a chiudere quelle che sono anche le penetrazioni. Nel caso di Benizzi se l'abbiamo visto ora nella penultima azione. Invece sempre a chiudere e a fare diciamo barriera davanti al proprio canestro. Bravo. Bravo Piombino per ora. Sì. Bravo Piombino che sta approfittando di una ormai un po' storica. Abulia del tiro da fuori di San Mignato già da qualche partita salvo degli sprazzi in alcuni frangenti. Ma questo come si sta vedendo anche in questa partita è una delle armi più importanti per scardinare le difese magari che intasano l'aria. E qui Piombino sta avendo facile gioco su questo. Sicuramente sì. Lo ripeto però lo sta facendo bene. Non vorrei sbagliare ho visto entrare Bianchi a Piombino nel Piombino. Sì è entrato Bianchi, Camillo Bianchi. Ora Iardella soffia la palla a Benitez. No. Fallo? Fallo, fallo. Ha messo la mano sulla sfera. Sì Benitez non protesta per cui aver preso anche un bel po' di mano. Bianchi è entrato al posto di Malbasa. Malbasa? Qualcuno sa dirmi l'origine? No. Ecco Benitez. Francamente no. Due tiri dalla lunetta per Iardella. A due e venti al termine questa prima frazione. Palla persa a metà campo da Benitez che probabilmente concentrato sul tipo di gioco da fare non ha protetto a dovere. Tanto mi sembra che la precisione di Piombino si veda anche in questi frangeli. Non hanno sbagliato un tiro libero. Ecco. Malbasa è origine serbe però cresciuta in Italia come c'è stiscamente. Sì sì era l'etimologia del nome diciamo la provenienza perdona del nome che era interessante. Benitez ha sempre di fronte a sei Iardella. Tempestini. Tempestini. Tempestini a Zarda nel tiro da Treppo si ferma. Arresto tiro. Sbatte sul ferro. La palla non va. La sfera non entra. Procacci. 1.54 al termine. Riceve Persico. Sporca la traiettoria. Ottimo lavoro. Nasello. Fontana alla rimessa. Riceve Camillo Bianchi. Ancora Fontana. Iardella. Che tira da casa sua vedo. La palla sbatte sul ferro. Poi c'è un palla mia palla tua fra Pertico e Giacomelli. La sfera esce. Chiamate ora dall'albitro assistente per l'asciugatura del campo. Sì. Persico che è molto mobile nonostante l'altezza mi pare. Perché si sta facendo valere bene lì sotto. Samignato sta provando almeno per la prima volta una zona, una 2-3 che poi si trasforma entro e due per vedere di limitare più che altro la palla sotto o sotto canestro e cercare di avere più facilità anche sui rimbalzi. Esce Fontana, entra Guerrieri nelle file di Piombino. Tempestini. Tempestini. Arresto, tiro di Tempestini e ferro nuovamente. Questo è un tiro classico di Tempestini che normalmente entra. Si vede che probabilmente c'è da riprendere le misure al campo di casa perché oggi effettivamente non solo Tempestini, stiamo parlando di tutta la squadra, non c'è tanta precisione al tiro. Persico riceve sotto le plance. Lotta con Giacomelli. Recupera Nasello. Nasello per Giacomelli. Benitezze, Benitezze. Tempestini. Nasello, Nasello, Nasello. Il canestro di Nasello. Finalmente la blue card va a 9. Ma quanta fatica. Piombino è fermo a 20. 44 seconde al termine. Procacci imposta per i suoi. riceve Iardella. Ancora Procacci. Persico, Iardella, Iardella. Nasello sporca la traiettoria. Finisce con i 24 secondi. Possesso parla per l'Estruska-Blue card. Esce Tempestini e rientra Zita. E qui dobbiamo fare un applauso alla difesa di San Mignato. No, esce Nasello. Esce Nasello che ha fatto un bellissimo movimento da centro puro nel pitturato di Piombino. Sinceramente era un po' che si voleva vedere quel tipo di movimento. Bravo Nasello. Che non ha fatto prima Bertolini. Che non ha fatto lui a Bertolini. Bertolini sappiamo che è un centro strano. Gioca più da tre che non da quattro o cinque. Tempestini si butta nel... Si va a prendere un fallo di esperienza, diciamo. Via. Si dice così. Sei secondi al termine di questa prima frazione con il possesso palla nelle file dell'Etruska-Blue card. Per inna la rimessa. Riceve Tempestini. Giacomelli. Giacomelli da tre. Corto. Era un passaggio a Perini. Finisce qui la prima frazione. Fluska-Blue card. 9. Sol batte Piombino. 20. E anche questa partita la vedo tutta in salita. Tutta in salita perché la capacità autorevisionista di San Miniato, soprattutto nei primi tempi, mi pare che ormai sia consolidata. Anche se, come si diceva e si notava con Gianni, nella prima parte si è cercato da parte di San Miniato un movimento palla per i metriali decisamente più veloci e rapido. E' mancata la precisione, non è mancato il gioco costruito. Mentre invece il break, che non l'ha fatto, probabilmente con una maggiore serenità nel tiro che ha creato poi il divario. Sono 11 punti, teniamo conto che mi pare 4 triple andate a segno e questo significa molto. Nessuna tripla da parte di San Miniato con qualche tentativo più che valido. Gianni? Sì, tutti i tiri presi regolarmente, in particolare del tiro classico del Tempestini, un arresto tiro, che diciamo solitamente è il suo cavallo di battaglia, chiamiamolo così. Ma anche gli altri tiri del Giacomelli che hanno tirato da fuori, hanno tirato liberi, cioè tiri che erano da prendere. Purtroppo per ora la palla dentro non ci va. Guardiamo nel secondo qua il Tempino e cosa succede. Ma una caratteristica di San Miniato è che non era una grande difesa. Sì, sì, ma non sta giocando male in difesa. E sono precisi i piombinessi. È una cosa un po' diversa. Però se prendi 20 punti la difesa... No, non sono... Piombino sta facendo un gioco molto positivo con Procacci, che ripeto, l'avevo già detto prima, ha dettato i ritmi. Poi sono bastate due triple, una di Pedroni e una di Fontana, all'inizio, per mettere in allarme San Miniato. Non è che la difesa, a mio parere, abbia demeritato. O quantomeno, non è stata eccezionale, ma non ha demeritato. Piombino ha fatto un gioco di penetra e scarica che ha liberato dei tiratori che in questo caso sono rivelati precisi. Mentre invece, quando hanno provato a entrare in aria, anche il gioco di Persico, Malbase e tutto, hanno trovato un muro che ha impedito loro di segnare da sotto. Via, a partenza riparte la seconda frazione. La Etrusca Blucart si schiera con Perin, Giacomelli, Zita, Naselle e Benitez. La Solbat e Piombino risponde con Procacci, Iardella, Guerrieri, Bianchi e Malbasa. Passi non fischiate, direi. Tiro di Iardella dalla distanza, la palla non va. Benitez per Perin, Perin era distratto, comunque riesce a trattenere la palla in gioco. Riceve Nasello, Nasello scarica per Benitez, Benitez da tre, canestro di Benitez. La Blucart va a dodici, nove e diciassette da giocare per questa seconda frazione. Procacci porta sulla sfera di fronte a Seppurin. Procacci scarica per Malbasa. Si fa largo Malbasa, sbaglia il tiro. Tra l'altro questo è il secondo errore di Malbasa nella stessa maniera. Cioè che non dal... Uguale, 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 è vero, è vero, è vero. Stavo notando. Tirando da sotto e ha tirato nel solito modo. Su questa palla sono molto dubbioso perché Giacomelli era riuscito a buttarla sui piedi del giocatore di Piombino. L'arbitro ha visto Giacomelli per terra e ha fischiato il contrario. Mentre invece è quello che Gianni, è vero che ha sbagliato due volte nella stessa maniera, ma due volte è andato sotto nella stessa maniera e non c'era l'aiuto dalla parte del lato debole, diciamo. E' questa è la difesa che forse Angelo stava sottolineando prima. Eccolo là, guerrieri per Procacci, Procacci dalla distanza, porta la Solbad a 23. Zita, Zita per Giacomelli, Giacomelli, ferro di Giacomelli. Traiettoria sporcata da guerrieri, la palla si perde sul fondo, rimessa per le file dell'Etrusca Blucart. Giacomelli fa bene a tirare, lui è uno dei tiratori deputati. Se anche non entra deve comunque andare a trovare fiducia e prendere bene i ritmi. Bella azione di Benitez, che riesce a liberare Giacomelli all'interno del pitturato. E qui li siamo come quello che si diceva prima. E la palla non entra. E la palla non entra. Ora non diamo la croce addosso a che ha sbagliato. E' una situazione, è un dato di fatto che in questo momento San Mignato sta anche pagando numericamente. Gravo Giacomelli a infilare il tiro libero. Giacomelli fa due su due, porta l'Etrusca Blucart a 14. La Solbat è ferma a 23, 8 e 37 da giocare. Iardella per Bianchi. Bianchi supera la metà campo, riceve Iardella. Iardella per Bianchi ancora. Scarica per Malbasa. Scarica fuori. E finiscono le 24 seconde. Per In. Ha la sfera in mano. Benitez. Nasello, Nasello, Nasello. Ancora per Benitez. Benitez. La sfera cade addosso al Nasello ma gioco della sorte. Finisce nelle mani di Iardella. Intanto pronto alla sostituzione. Pedroni rientrerà in campo. Procacci riceve la sfera. Porta a spasso Nasello. Scarica per Malbasa ma arriva Zita. Guarda anticipo di Zita. E porta la sfera fuori. Con sei secondi sul tabellone per Piombino. Esce Iardella. Rientra Pedroni. Alla rimessa proprio il nuovo entrato Pedroni. Riceve Procacci. fallo di Zita sull'entrata di Procacci. Probabilmente ha brassato le mani l'arbitri. Mi pare che per tutto l'incontro abbiano punito questo tipo di intervento. Esce Zita e rientra Tempestini. Secondo fallo di Zita e rientra Tempestini. Però se avete notato è già la seconda volta che Piombino perde palla di 24 secondi. vuol dire che la difesa Blukart si è un po' più stabilizzata. Questo tipo di zona che sta facendo mescolata sta dando i suoi frutti. Cercano più il tiro da sotto ma da sotto non riescono come diceva prima Luigi. Trovano più un muro rispetto ai tiri da fuori. I tiri da fuori sono quelli molto più pericolosi. Questa a mio parere Gianni è anche la caratteristica di avere in campo un uomo come Perin che all'occorrenza può fare la guardia, può fare il tre ma ha anche la fisicità per poter stare dentro con i lunghi a sopperire. E questo è importantissimo. Un giocatore che è strategicamente importante. Questo è un fallo. E fra l'altro... Intenzionale. Mi hanno dato anche fallo intenzionale. Quindi bel movimento di Nasello. Che oggi ci sta facendo vedere numeri da scuola da centro direi. Perché ce l'ha sempre avuti e oggi ce li sta facendo vedere. Fallo al numero 5 guerrieri. Primo fallo per lui. Nasello in lunetta e possesso pallo a Poderle Trusca. Beh, è normalmente conciliabolo fra l'allenatore di Piombino e l'arbitro. Giustamente è secondo fallo intenzionale anche per capire quale deve essere la linea di condotta dei suoi ragazzi. Nasello realizza dalla ronetta porta l'Etrusca Blucart a 17. Alla rimessa... Alla rimessa... Eh, Pedroni. No, alla rimessa... Sì, perdon, Pedroni che andava su Benitez. Per in, Nasello. Bertolini riceve in questo momento. Ancora Nasello. Azzarda al tiro da tre, procede la sfera a Benitez. Per Tempestini, rotazione, Nasello, Nasello, si gira Nasello e che è il canestro di Nasello. E Nasello oggi sta veramente sugli scudi, sta facendo vedere che cosa significa giocare in post basso. Direi che è il terzo movimento che fa lì sotto, due entrati, uno no, ma ha preso fallo. Insomma, oggi è la... È il lottatore, è il lottatore di turno. Più che il lottatore è il primo centro, cioè, è il primo giocatore che fa movimenti al centro puro che sto vedendo assaminato da un po' di tempo. Etrusca, Blucart, 19, Solbat, Piombino, 25, restano da giocare per questa seconda frazione, 6 e 59. Falli di squadra, uno la Blucart, due il Piombino, Gianni. Sì, bravo Nasello perché si è accorto che sotto canestro il Piombino, con la stazza che ha lui, riesce a passare, riesce a entrare sotto e a poter tirare. È già la seconda volta che tende a un tiro del genere, la prima volta non gli è riuscito per poco e questa volta invece ha fatto canestro perché ha un buon movimento che lui sa fare sulla linea di fondo. Bravo, bravo Nasello. Intanto nelle file dell'Etrusca esce Benitez ed entra Neri. Mentre nella Solbat e Piombino Procacci va alla rimessa, riceve i guerrieri, scarica per Bianchi. Bianchi scede la sfera a Procacci. Ancora per Iardella, tutto solo da tre, canestro, canestro di Iardella. Errore di comunicazione fra Bertolini e Perin. Credo che però da vedere i labiali dalla panchina l'errore sia di Bertolini. Sì, sì, ma al di là di chi sia l'errore c'è stata mancanza di comunicazione. E qui Guerrieri se la deve rivedere con Nasello che però scarica niente. Perin, 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 Perin. Pedroni da tre. Ferro conquista la sfera a Nasello. Nasello, Nasello per Tempestini, ancora Nasello. Bertolini. Tempestini. Perin, da tre Perin. Ferro e la sfera va a mano a Guerrieri. 5,50 da giocare. In precisione al tiro nelle file dell'Etrusca Blucart. Sì, ma un'intensità di gioco che si è notevolmente alzata. E probabilmente a vantaggio di San Mignato. Qui ci sono passi abbastanza clamorosi. Bertolini, con l'aiuto di Neri, porta via la sfera. Tempestini da tre. E la Blucart va a 22. La Solbat ferma a 28, 5,20. E riceve in questo momento Pedroni. Balcanese Tempestini con sospetto sull'arresto, sinceramente. Pedroni si aiuta con i bracci, cede a Procacci la sfera. Procacci per Guerrieri. Ferro arriva a Malbasa. Recupera. Cede a Iardella. E c'è il fallo di Perin. C'è un fallo di Perin. Fallo di Perin. Due tiri dalla lunetta per Camillo Bianchi. Doppia sostituzione delle file di Piombino. Esce Malbasa. Esce Procacci. Entra Fontana e Persico. Quindi un minimo di velocità in meno, un po' più di fisicità e soprattutto tiro. Anche se Procacci non è che si è fatto tanto pregare quando si è trattato di tirare. Gianni. Buono il primo di Bianchi. E buono anche il secondo. La Piombino si porta a 30. La Blue Card è ferma a 22. Tempestini. Riceve Bertolini in questo momento. Lascia la sfera Perin. Perin. Per Nasello. Neri. Neri. Sulla linea di fondo. Scarica per Bertolini. Quattro. Tre. E non va. E non va. Tutti passaggi passivi. Non c'è mai stato avvicinamento al canestro. Penso che Barsotti stia incominciando a studiare schemi diversi perché così non riescono ad avere vantaggio. Pedroni. Ruba la sfera Tempestini. Castini può se la porta fuori per un attimo. intanto rientra Iardella e esce Guerrieri. Piombino soffre l'aggressività sui portatori di palla di San Mignato. Sembrano quasi sorpresi che l'arbitro non fischi dei falli ma ma per il loro bene meglio si abituino perché questo è il livello di questa Serie B. L'abbiamo visto anche con altre squadre. riceve Pedroni per Persico, Bianchi, fallo di Tempestini su Bianchi. Doppia sostituzione anche nelle file dell'Etrusca Blucard. Entra Giacomelli, entra Chiriatti, escono Perin e Nasen. Sì perché ho detto prima che Bertolini è un lungo atipico perché gioca quasi più da tre ma in difesa si fa sentire con gli avversari più alti e più grossi. Infatti ora anche Persico ha avuto il suo ben da fare contro Bobo Bertolini. riceve Iardella da Fontana. Fontana, Fontana! Recupera la sfera Persico. C'è il fallo ancora di Tempestini. Sì perché Giacomelli, o meglio è stato più Persico, molto bravo a prendere posizione e fare un tagliafuori in attacco su Giacomelli. Altra girandolina di costituzione. Esce Tempestini e rientra Zita a 3.59 con Persico e Lunetta per due tiri liberi. Momento cruciale della partita perché qui si stanno giocando le inerzie. Chi la prende in questo finale di primo tempo potrebbe avere un grosso vantaggio nella ripresa dopo l'intervallo lungo. I due allenatori lo sanno bene e sono abbastanza in febrizzazione. Due errori, due errori. Persico fa 0 su 2 alla Lunetta. Il punteggio rimane invariato. Neri, Bertolini, Zita. Zita riceve Neri. Ancora Zita. Zita fa un passaggio. Recupera Neri. Zita ancora. Giacomelli. Giacomelli. Neri. Fuori per Chiriatti. Bertolini. Bertolini. Canestro di Bertolini. Dopo suspense infinito con questa sfera che scappava da tutte le parti. Gli arbitri non hanno considerato fallo di inversione di campo. Sinceramente sto con gli arbitri. Un po' di parte sicuramente ma anche perché non saprei cosa dire sull'azione. Dovrei rivederla con attenzione. Tiro dalla distanza di Bianchi. Sbatte sulle planche. Recupera Bertolini. Giacomelli. Ferro. La sfera va fuori. Molto bravo Neri. Molto bravo Neri. Però su pressione di Neri. Iardella porta la sfera fuori. Esce Neri. Rientra Benitez. 2.54 da giocare per questa seconda frazione. Etrusca Blucart 24. Solbat Piombino. 30. Zita la rimessa. Benitez. Bertolini. Zita. Riceve Giacomelli. Ancora Zita. Arresta e tiro. La sfera cade in mano a Iardella. Un tiro che aveva poca forza. Iardella per Persico. scambia Pedroni. Tutto solo da 3. Canestro. Canestro. E c'è un fallo del... 8. Fallo in attacco. Fallo in attacco. di Persico. Di Persico. Fare un attacco di Persico. Cioè, allora, 3 punti convalidati e fare un attacco di Persico. Esatto. Quindi si riprenderà dal fondo e spiegazioni all'allenatore, ad Andrea Azza. Ah, no, 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 no. Mi sto semplicemente dicendo al secondo e gli altri collaboratori di stare a sedere, ma... Mi sembra che il comportamento della panchina di Piombino sia nelle regole e nella normalità di una partita sentita. Benitez è la rimessa. Riceve Giacomelli. Ancora Benitez. Zita voleva la palla veloce. Non gli arriva. Gli arriva solo ora. La scambia con Bertolini. Giacomelli. Ancora Zita. Arresto. Tiro di Zita. Ferro pieno. La palla va in mano a Persico. Fontana. Iardella. 2-0-3 da giocare. 8 secondi per passare la metà al campo. Recuperano il possesso palla ai ragazzi di Saminiato. A 2-0-1 al termine di questa seconda frazione. Chiriatti che rimette per Giacomelli. Riceve Benitez. Benitez, Benitez. Per Bertolini. Bertolini. Canestro di Bertolini dalla distanza. La Blucart giunge a 27. I soliti altanella fra 6 e 9 di distacco. E qui si buttano tutti sulla palla ammucchiata. Il possesso arriva a mano a Saminiato. Esce Pedroni. anche sotto le planche nonostante la non elevata altezza riuscire a recuperare dei paloni importanti. Piombino lo vede un attimo perplesso ma comunque riesce a mantenere sempre il vantaggio di sicurezza su Saminiato. Benitez. Benitez dalla distanza. Benitez dalla distanza ferro. La sfera cade in mano a Iardella. che lascia a Procacci. Procacci scarica per Iardella. Bianchi. Ancora Iardella si butta. Passa. No, viene dato un fallo. Viene dato un fallo, credo, a Benitez. No, al 24, al Neri. A Neri. Neri. Non riuscivo a capire dalla gestualità dell'arbitro. Mi sembrava Benitez. Invece è dato fallo a Neri. Intanto esce Persico. Rientra Malbasa. Due tiri per Iardella dalla lunetta. 1.07 al termine. Buono il primo con l'aiuto del ferro. Buono anche il secondo. Bertolini è la rimessa. Riceve Neri. Benitez. Blucart 27, Piombino 35. Zona per Piombino. Benitez. Giacomelli. Bertolini. Neri. Troppo lenta la velocità del pallone. Chiriatti. Bravo Chiriatti. Che si va a prendere un fallo da Fontana. Rimessa sarà solo rimessa però per le file dell'Etrusca Blucart. Piombino. Piombino aveva sempre un fallo da spendere. Prima del bonus e l'ha sfruttato a dovere. 14 secondi contro almeno eccoci. eccoci. Neri Giacomelli. Canestro facile. Dormita colossale della difesa di Piombino. E prontamente c'è un time out chiesto dalle file della Solbat Piombino. Etrusca Blucart 29. Solbat Piombino 35. Sei punti che ballano da tempo. 43 secondi al termine di questa seconda frazione. Se andiamo a vedere il primo tempino è finito con Piombino a 20 e la Blucart a 9. Ora siamo 35 a 29. I punti, il divario si è notevolmente accorciato. in virtù a una buona difesa come diceva anche Luigi prima della Blucart. Perché anche in questo caso c'è stato un 8 secondi di infrazione per Piombino. Vuol dire buona difesa e raddoppi della Blucart per non far passare la metà campo. E questo dovrebbe portare piano piano mattoncino su mattoncino a arrivare a poter sopassare la Solbat a Piombino. Piombino ha avuto un attimo di perplessità. Chiamiamola così di sbandamento. Ma grande merito di aver mantenuto il divario con l'avversaria. Qualche problema di comunicazione soprattutto sui cambi delle formazioni difensive fatte da coach Andreazza. Si è visto prima Procacci e Bianchi che stavano discutendo sulle posizioni con l'addormita generale che si sono fatti sulla rimessa precedente. Piombino è una squadra che naturalmente c'è poco da affidarsi a ottimi giocatori. Lo sta dimostrando. E comunque l'inizia della partita non è ancora stata presa da nessuna delle due squadre. Procacci ha 10 secondi da gestire per la Solbat. Si butta nel pitturato. Baffi in un fondo fa un bel canestro. Fotocopia del primo canestro fatto in partita da Procacci. È identico. 16 secondi da giocare per l'Etrusca. Nasello. Benitez. 9. Neri. Ancora Benitez. Passaggio per Fontana. Finisce qui. La seconda frazione. Etrusca-Blucart 29. Solbat-Piombino 37. È una seconda frazione che ha visto lottare i ragazzi di Savignato. Però hanno solo recuperato tre punti dallo svantaggio della prima frazione. Sì, tre punti Gianni. Ti cedo immediatamente la parola per sottolineare sotto una cosa. Hanno provato tre tipi diversi di attacco. In difesa hanno rimesso le cose a posto contestando di più utilità fuori e intesando l'aria. In attacco poche idee confuse. Una ha funzionato. Palla a nasello dentro dopo buoni cambi difensivi. Per il resto ancora da vedere. Sì, c'è un po' di difficoltà ancora per quanto riguarda l'attacco. Anche perché i tiri che si sono cercati, come dicevate prima anche te e Luigi, il merito della Blucart sono i tiri da fuori. E questa sera invece non abbiamo avuto il percentuale che naturalmente abbiamo. In particolare da Giacomelli. Però diciamo che tutto quello che sta facendo la Blucartore in difesa se lo ritrova poi anche in attacco perché anche Piombino, come avevate detto prima, ha avuto un momento di sbandamento, non riusciva a trovare il bandolo della Matassa in sotto di quei canestri che abbiamo fatto anche ultimamente con Giacomelli da sotto su una rimessa che una squadra di Serie B non deve prendere. Bene, linea alla regia per l'intervallo lungo. Buonasera, riprendiamo qui la linea dal Palafonte Vivo per questa terza e quarta frazione fra l'Etrusca Blucart, Solbat e Piombino. Attualmente la partita è ferma sul punteggio di l'Etrusca Blucart 29, Solbat e Piombino 37. Le rispettive coach, Barsotti per le file dell'Etrusca Blucart e Andreazza per le file della Solbat e Piombino stanno dando le ultime indicazioni ai propri ragazzi prima di dare avvio a questa terza frazione di gara. Per le file dell'Etrusca Blucart i ragazzi che scendono sul parquet sono con il numero 2 Tempestini, numero 7 Nasello, numero 9 Bertolini, numero 6 Zita e numero 66 Andrea Chiriatti. La Solbat è più o meno e invece scende sul parquet con il numero 9 Malbasa, 6 Procacci, 41 Edoardo Fontana, numero 3 Edoardo Pedroni e il numero 8 Edoardo Persico. alla rimessa Fontana per la Solbat e Piombino. Partenza, iniziata la terza frazione, riceve Procacci, Procacci supera Zita, Zita rinviene, riceve Malbasa, Persico, ancora Fontana, Fontana, entra la sfera, sbatte sui ferri ma non va, Zita per Bertolini, Tempestini, Tempestini per Bertolini nuovamente, ferro di Bertolini, arriva Nasello, non va, la sfera viene conquistata da Malbasa, Pedroni, Malbasa, Persico, Fontana, Malbasa di fronte a 6 Chiriatti, c'è fallo di Chiriatti, rimessa in fondo per la Solbat e Piombino, alla rimessa Fontana, riceve Pedroni, Pedroni per Procacci, Procacci, si butta nel pittorato, fa un passaggio a profondità per Malbasa, però i due non si intendano, la palla si perde sul fondo, mi sembra che l'inizio della partita ricalchi un po' i primi tempi. Sono ancora alla ricerca del sacro graal, entrambe le squadre, Tempestini in difesa su Malbasa è stato incomiabile, Malbasa ha perso un attimo l'equilibrio e appunto è stato buono. E qui la differenza di esperienza fra Zita e Pedroni, si vede nonostante Pedroni, che è un giovanissimo, ma di partite ne ha fatte, e qui Zita si è andato a prendere un fallo d'esperienza. Chiriatti alla rimessa, riceve Bertolini, ancora Chiriatti, Nasello. Ecco che si ripropone la situazione che abbiamo visto anche, bene, bravo Nasello, bravo Nasello, va bene. Sbaglia il Bertolini il tiro da due, era tutto solo, tutto libero. Comunque è una situazione quella in basso di Nasello che sta dando dei frutti, anche se qui non è riuscito ad andare a canestro, ma ha liberato bene Bertolini, e poi l'errore è al tiro, ma ci può stare. Ottima, ottima la gestione per ora di Nasello. Zita, scambia con Bertolini, ancora Zita, Nasello, Chiriatti, Bertolini, Bertolini, Zita, Tempestini, Ferro, e la sfera non va. Forse è la più bella azione, Gianni, di tutta la partita di San Minato. Sì, è vero, hanno girato la palla molto bene, hanno sfruttato gli angoli per ritornare poi sul centro con la palla da Tempestini che era proprio d'oro. Libero, libero, purtroppo non è entrato. intanto un tiro da tre di Malbasa si perde sul fondo. Tempestini alla rimessa, 7,35, 29,37, entrambe le squadre non hanno fatto un canestro. segni di ripresa e di dinamismo da parte di San Minato e soprattutto delle guardie che prima non collegati ecco Chiriatti. Buon lavoro fatto dalle guardie, bene la liberazione dell'uomo più che nell'angolo insomma sul perimetro. Tempestini sta facendo una gran corsa e sta lavorando tantissimo, bravissimo. Procacci da una parte Nasello dall'altra MVP indiscussi della partita. Un'altra volta che Procacci brucia sul tempo Bertolini anche perché ha un primo passo pazzesco. Nasello un po' indeciso su cosa fare giustamente. Tempestini da 3 e la blue card va a 35 Piombino a 39 Tempestini mi sembra entrato con altro piglio Procacci Persico ancora Procacci Nasello e Malbasa stanno facendo amicizie Pedroni scarica per Persico Persico Ferro la sfera va a Tempestini Zita Zita peccato sbatte contro un muro si ha provato a incunearsi aveva anche una bella idea non ha avuto lo spazio per girare bene il polso verso l'angolo ma questo è un tipo di gioco che Zita sicuramente crea del vantaggio ma ancora più importante Gianni è proprio le letture che prima hanno fatto sia lui che in Tempestini sì sì è vero perché Zita ha la grande caratteristica di essere molto veloce incuneandosi nella difesa si porta sempre dietro due uomini sempre e naturalmente l'aiuto più veloce è quello che è sulla guardia esterna e logicamente lui stava per dare la palla a Chiriatti perché il Chiriatti era libero non c'eva nessuno davanti sì sì assolutamente qui c'è un fallo di Tempestini su Pedroni che gli ha restituito il favore terzo fallo di Tempestini infatti rientra come immaginiamo Perin per andare anche a tenere un Procacci che è vero che Zita è veloce ma Procacci è un primo passo leggendario direi assolutamente potente e rapido Fontana Fontana bello si fa largo molto bene tecnicamente ben fatto e più o meno torna più 6 41 la Blue Card ferma a 35 Perin Zita Bertolini Zita scarica per Chiriatti tiro di Chiriatti Ferro c'è stato qualcosa credo fra Procacci e Zita però non l'ho visto infatti si spiegano immediatamente anche perché sembra fallo di Procacci su Zita sì secondo fallo di Procacci anche perché la partita al di là dell'agonismo sembra estremamente corretta da entrambe le parti poi ovvio non è che qualcuno tira indietro il corpo nel contrasto soltanto nell'angolo siamo abbastanza siamo coperti dalla tribuna non si è visto io ho visto solo sì sì ma immediatamente non l'ho visto nemmeno io sono sicuramente Zita in terra però il fallo non l'ho visto sì comunque ci sono dei duelli rusticani notevoli sotto i tabelloni come è giusto e sia una bella partita come questa perché sta diventando bella almeno dal punto di vista agonistico è sicuramente una bella partita tecnicamente aspettiamo che cresca ulteriormente consulto al tavolo ecco ok tutto pronto per la ripresa Perina alla rimessa lo riceve Bertolini scambia con Zita Nasello Chiriatti Zita Nasello Nasello si fa il largo e Nasello fa un bel canestro Etuska Blucart 37 Solbat più o meno 41 5-0-5 da giocare per questa terza frazione di gioco Procacci Procacci Pedroni Pedroni per Fontana fallo di Bertolini sul Persico fallo di Bertolini sul Persico secondo fallo si si spingevano si prendevano posizioni entrambe l'errore di Bob probabilmente è stato quello di allungare di allungare le braccia e Persico ha fatto notare la cosa e si è fatto dare un buon fallo per Piombino comunque al di là dei falli fischiati qui la partita sta incominciando a entrare e là bel canestro rientra giardella a posto di Pedroni fallo di giardella ora super in e questo ci sta tutto e chi uscirà esce Bertolini e Giacomelli un quintetto di atleti non che Bertolini non lo sia ma sono più che altro di gente anche piuttosto tosta si 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 di forza anche perché ora guardiamo su su Giacomelli Zita Zita solo da tre non va la sfera va in mano a Malbasa 4 e 16 da giocare distanze invariate giardella giardella bassissima niente questo è un passi grosso come una casa l'arbitri non capisco perché non lo fischino conquista la palla Zita Giacomelli ancora Zita Zita da tre tutto solo la sfera non va però a Malbasa si porta la palla fuori si e ora siamo ritornati in quella confusione che non fa bene a San Mignato sinceramente anzi anche questa transizione ma Gianni aspetto te quella transizione a me non è piaciuta non lo so ora è un quintetto un po' particolare come dicevi prima in campo è un quintetto particolare ma credo che diciamo a fisicità sia più più consono per difendere su quello che sta facendo Diabone era fuori peccato bravo bella azione però Giacomelli era rimasto fuori dal campo si diciamo che non ha avuto la reattività per entrare in media bravo per in ha insospettato e ho capito ma entra nel campo poi lascia sta che ti aspetta se no Giardella Camillo Bianchi che è entrato in precedenza a posto di Malpasa Procacci Giardella ecco il mismatch che non ci voleva eccolo là deciso trova un autostrada e fa un canestro facile e porta Piombino a più 8 Zita Nasello tutto solo da 3 non va e la sfera va a mano a Persico è Persico sicuramente a gioco facile in questo momento strano perché con Giacomelli Nasello e Chiriatti dovrebbe invece avere difficoltà si vede che si pensa più a prendere la palla che a prendere posizione mentre invece rientra Tempestini e Benitez escono Chiriatti e Zita abbassa il quintetto Barsotti perché è anche il quintetto che gli ha dato più soddisfazioni fino adesso Fontana la rimessa per le file della Solbat interessante Benitez sul Procacci Persico Persico fallissimo due tiri per Persico fallo di Benitez 2.51 da giocare per questa terza frazione Persico e Lunetta per due tiri sbaglia il primo però Persico ha fatto vedere ottime cose ai tiri liberi non è proprio la specialità della casa direi e questa volta realizza giustamente se l'hai sentito delle mie parole l'hai infilata logicamente bravo Persico massimo vantaggio di Piommino dall'inizio di questa terza frazione molto fermi molto fermi Tempestini riceve in questo momento Nasello Perin ancora Nasello Giacomelli ripersa palla un'altra volta c'è time out doveroso da parte di Barsotti saltano un po' di nervi nelle file dell'Etrusca e Samminiato mi dà questa impressione da qua su Gianni aspetto a te ho visto un Giacomelli un po' ancavolato perché a 4 secondi dallo scadere del tempo non si può fare un passaggio in fondo tra l'altro basso a un giocatore che avrebbe dovuto prendere la palla e tirare subito e logicamente ora cominciano un po' a ancavolarsi anche i giocatori perché vedono l'andamento della partita e io credo che non ci stiano proprio a perdere questo è quello che spero vivamente della reazione di Samminiato sicuramente nessuno tende a voler perdere ci mancherebbe lo spero che ci sia una come dicevi Gianni ribadivo il discorso è che anche lì se arrivi a 4 secondi con un passaggio del genere vuol dire che i precedenti 20 qualche cosa deve essere successo perché non ci siamo e questo è il quintetto che ha dato più soddisfazioni per ora a Samminiato durante la partita è vero è vero c'è una mancanza di lucidità nella costruzione almeno questo è quello che appare dalla tribuna poi è evidente che le problematiche le conoscono meglio però quello si vede mentre invece tre cose fatte bene da parte di Piombino e siamo a un più nove tanto per cambiare tanto il vivare è quello comunque io a questo punto dico una cosa sola stiamo pagando il 20 a 9 del primo parziale del primo quarto questo è quello perché guardate il punteggio il 20 a 9 ha voluto dire molto in tutto in economia della squadra in economia fisica eccetera ma vabbè questo non pregiudica nulla cioè voglio dire se ti hai il primo tempo entri in campo pensando a altre cose o 20 a 9 o 30 a 10 poi ti pregiudica la gara Procacci Procacci per Persico Persico si gira ma c'è fallo ancora di Benitez si meno evidente ma probabilmente due tiri ancora per Persico oddio problemi non sono in difesa mi sembra che siano decisamente in attacco io confido che San Miniato ritrovi la linea perché ripeto come si diceva prima microfoni spenti se rimane attaccata con 5-6 in alcuni casi 9 punti giocando una partita in attacco inferiore alle aspettative c'è da sperare che possa recuperare infatti rientra capitano Bertolini c'è bisogno di lui sicuramente rientra Bertolini esce Nasello Persico fa 1-2 porta 2-6 la sua statistica personale Letrusta Blucart è ferma a 37 Piombino a 47 la prima frazione era terminata con uno svantaggio di 11 punti siamo a 10 e non si vede soluzioni alternative in attacco Tempestini Tempestini fino a un fondo bravo Tempestini realizza un bel canestro cosa semplice ma proficue Iardella porta in su la palla per i suoi cede la sfera a Camillo Bianchi Persico Procacci e qui Benitez deve stare molto attento ecco Persico riceve bravo Giacomelli si gira beh quello è quasi fallo non fa sfera a mano a Tempestini contropiede Perin Perin e canestro di Perin e siamo tornati nuovamente a meno 6 questo meno 6 che balla da troppo tempo volevano un passi di Tempestini ma purtroppo quei passi lì esistevano l'anno scorso quest'anno non esistono più e dovrebbero imparare anche i giocatori a vederlo vabbè comunque questo è un commento mio gratuito sì e questa è la reazione del Sam Mignato questa deve essere la reazione del Sam Mignato e il quintetto che è in campo con Umberto Lini e tutti che corrono deve essere questa la finalizzazione anche perché un Persico quando è in attacco non ce la fa ritornare in difesa per difendere è ovvio che non è un brevilineo e questo è l'andamento che devono sfruttare nel modo più possibile cioè cercare di eliminare più possibile il tiro da fuori e andare a cercare più il tiro da sotto abbiamo visto un Tempestini che ha attaccato in esso da sotto Tempestini non è due metri molto bene anche se i prossimi possessi saranno quelli che a mio parere determineranno quello che stiamo dicendo dall'inizio della partita cioè l'inerzia e siamo a meno 6 con Piombino che non molla un centimetro e sicuramente qui ora Sam Mignato deve fare due difese favolose come l'ha fatto fino adesso e andare a recuperare a bruciare quel gap che è ancora le mani Fontana per Iardella 1 e 12 al termine di questa terza frazione Iardella di fronte a sé per in riceve Camillo Bianchi Camillo Bianchi per Persico e Persico ha di fronte a sé Benitez e riesce a fare un canestro facile Giacomelli Bertolini ancora Giacomelli Tempestini Benitez Per in Bertolini Bertolini Bravo Bertolini Bertolini Ferro la sfera non va il Iardella però si porta la palla sul fondo sarà rimessa per le file di Sam Mignato 14 secondi da giocare 35 secondi al termine di questa terza frazione Benitez ci porta anche Iardella perché ha fatto un salto belluino per andare a recuperare la palla come si diceva prima Benitez ce l'ha questi movimenti ce l'ha questi momenti atletici dove non sembra insomma un giocatore che è certamente un batusso ha recuperato tanti palloni così questo è importantissimo anche perché devono rimediare a un attacco che non è stato eccezionale fase di asciugatura per la caduta di Iardella anche se Bertolini quel tiro normalmente lo infila con una facilità enorme l'abbiamo visto tante volte ripeto e guardare più alla qualità dell'azione che non alla conclusione questo c'è un blocco che è tutto un programma Bertolini Benitez Tempestini mismatch con Persico questa è un'azione e che è il resto di Perin a proposito di fisicità Procacci ha di fronte a sé Perin accede a Fontana Guerrieri Guerrieri Ferro e arriva Camillo Bianchi sulla sirena per il 51 43 e ci sta tutto ci sta tutto nonostante le buone azioni dei ragazzi dell'etrusca assaminato però Piombino riesce a mettere ancora la testa avanti e si porta a un vantaggio di 8 punti Gianni speravo quel canestro quel canestro di Tempestini il canestro in contropiede avesse dato quella svolta con l'inerzia che si chiedeva che si voleva e invece Piombino come diceva giustamente anche Luigi non molla mai ai telespettatori comunico che Angelo lascia la telecronaca per impegni personali quindi lascerò questo onore a Luigi e Gianni di proseguire questo onore visto che ci lasci a dopo comunque si continuiamo noi la telecronaca e quindi anche il commento della partita e come si diceva Gianni San Mignato sicuramente deve avere uno scatto d'orgoglio ma soprattutto riprendere l'inerzia in attacco quello che diciamo dall'inizio c'è una mancanza non so se è una mancanza di personalità non credo perché i giocatori di San Mignato sono bravissimi e diamo anche il giusto merito a Piombino Piombino non ha mai mollato mai mai e tecnicamente ha fatto vedere anche delle ottime cose assolutamente si microfono perfetto e ha trovato anche delle soluzioni ottimali per andare al tiro si si assolutamente e questo questo merita Piombino però ora guardiamo se questi pochi secondi che mancano eh no questi pochi no io dico pochi secondi perché non voglio parlare di dieci minuti nell'ultimo tempino questi pochi secondi che rimangono dell'intervallo tra il terzo e il quarto tempo se è stato il Barsotti diciamo mentore di qualcosa di buono per questi ragazzi va bene inizia la partita con San Mignato che va in attacco gioco sul perimetro con Tempestini che scambia finta di pick and roll adesso bellissimo il lob peccato il lob per di Perin per Bob Bertolini che non riesce ad andare a segno c'era appunto il mismatch sotto canestro fra Bertolini e il suo avversario Malbasa su giocano sul perimetro è bravissimo Benitez per l'ennesima volta ad andare a anticipare no questa è tutto un programma allora ottima l'azione di recupero di Benitez passaggio sbagliato recupero di Piombino facile canestro la mancanza di precisione è stata forse la caratteristica principale di tutta la partita di San Mignato ecco Tempestini che sta tirando questo è un canestro da fuoriclasse diciamo momento difficile va a tirare da 8 metri e riesce a segnare sì è vero perché quella era l'unica soluzione Tempestini l'ha capito appena ha preso la mano la palla ha tirato il canestro non c'erano altre soluzioni meno 7 a 8 e 43 dal termine con Procacci indiscusso il protagonista della partita per Piombino che scarica una palla al suo compagno Fontana se non mi sbaglio perché dimentico perdono da Guerrieri che infila una una tripla importante Bertolini che va a liberare Giacomelli che deve restituire il favore non ci riesce Bertolini che riesce quasi a rubare il beh ora la partita si sta facendo questo non l'ho capito si sta facendo importante anche sotto il profilo agonistico c'è un passi non fischiato di Giacomelli che comunque segna ora si sta giocando veramente con con la forza dei nervi e con la quasi disperazione di San Minato di volere andare a Canestro a tutti i costi Procacci risuona la carica ottima palla scaricata per Malbasa e c'è da pulire il campo e qui Procacci ha fatto vedere tutta la sua bravura che per tutta per tutta la durata la partita un più 10 a 7 e 41 le azioni concentrati prima che ci hanno anche messo in difficoltà sotto il profilo del commento perché ne sono successe di tutte ha dimostrato quello che abbiamo sottolineato c'è la grande grinta dei San Minatesi dell'Etrusca che hanno giocato di voglia in questo caso più che di lucidità però Giacomelli si è andato a prendere un canestro importante è vero è vero Tempestini a suonare la carica per San Minato fronteggiato da Procacci non c'è nessuno benissimo nella lunetta e oggi Bob Bertolini il suo tiro non riesce a segnarlo con continuità era preso bene contro la difesa di Piombino movimento Malbasa è di nuovo Procacci che rigioca e va a prendersi una penetrazione che naturalmente San Minato riesce a fermare la transizione di Benitez è fermata col fallo e quindi si va alla rimessa non c'è movimento sulla panchina per ora il quintetto di San Minato è sempre Tempestini Benitez Giacomelli Nasello Bertolini Tempestini ripropone l'azione a 19 secondi dalla fine del punto dell'azione ecco il passaggio con il flash di Benitez tiro dalla lunga di Giacomelli oggi non è giornata per nessuno di San Minato non c'è nessuno che per ora abbia avuto continuità nel tiro da fuori Malbasa si rifronteggia bel duello con Bertolini niente lo vince Bertolini Giacomelli recupera la palla e Tempestini che va a buttarsi dentro e dà una palla splendida a Giacomelli ricopiando pari pari l'azione di Procacci precedente ecco Fontana che nel primo tempo ha bastonato i suoi avversari nel tiro da tre facendo delle ottime performance ed ecco Procacci e qui altro difetto di comunicazione con Procacci lasciato solo e Fontana che prova un tiro l'abbiamo detto prima c'è poco da ragionare su questo tipo di azione bravo Fontana molto molto bravo anche perché non ha tirato proprio da ecco qui bravissimo Nasello che riesce a prendere un passaggio estremamente accurato e Tempestini che sta salendo di tono sta salendo di tono sta vedendo anche l'urgenza 5.38 dal termine 52.61 vantaggio di Piombino c'è bisogno di accelerare i tempi per per recuperare lo svantaggio e ma il base Bertolini che si si fanno due carezze Procacci va di spalla e chiede il fallo il pubblico di Piombino non è d'accordo siamo con loro nel giusto nel giusto nel giusto atteggiamento ma fa piacere anche vedere intanto un pubblico appassionato non si è chetato un secondo ma assolutamente corretto è vero è il sesto uomo per l'etrusca è il sesto uomo per l'etrusca diciamo il pubblico no non si riesce non si riesce a sbloccare diciamo quella famosa pratica parola quest'inerzia che manca manca proprio manca 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 bella azione bravissimo e adesso Benitez deve andare a prendere un bel tiro ecco qui se andiamo a vedere bene tutto fino in fondo i tiri della Blucart sono stati presi come ho detto anche all'inizio nel modo giusto e dovevano essere presi non erano tiri forzati tiri che andavano presi come in questo caso di Benitez e purtroppo non si riesce a sfondare la retina della della Solbat Piombino come si dice alle volte scherzando ma non troppo palla canestro significa la palla deve entrare dentro questo non è una critica ai giocatori di San Mignato che stanno facendo delle azioni ottime poi se la precisione manca può essere dovuta a tanti a tanti fattori intanto Chiriatti che se la vede con Persico e ripartenza immediata di Tempestini che va naturalmente a cercare e va bene va a cercare Persico lo batte sul tempo ma Persico che gli rende almeno 25 cm è sicuramente in vantaggio poi sotto le planche buona l'azione di Tempestini comunque non ha non ha timore di entrare vediamo ed ecco un altro un altro eccolo lì Chiriatti che sta lottando sotto canestro si fa prendere si fa dare praticamente dall'abito due tiri liberi importanti fallo di Guerrieri secondo fallo di Guerrieri a 4.32 61.52 siamo sempre il meno 9 che aleggia su questa partita non c'è ancora il il break si si Chiriatti sta sta andando Piombino segna il tempo sono entrati praticamente tutti in area va bene lo stesso Chiriatti su su Fontana e qui la palla è stata quasi recuperata da quello che io ho considerato il miglior giocatore di San Miniato oggi forse nelle letture delle guardie meno utilizzato di quello che avrebbe potuto essere ed ecco Giardella che fa il vice procaccia e porta avanti palla aggredito praticamente da da Zita cambi difensivi con Giardella con Giardella che va a giocare laterale per poi andare a dare la palla a un Persico che troppo facilmente prende la linea di fondo su Nasello e va a fare un reverse che che porta altri due punti a Piombino gioco perimetrale è un blocco è un blocco assolutamente irregolare ma gli arbitri hanno deciso in maniera diversa e si rispetta la decisione dell'arbitro bene la difesa di Bertolini ecco l'arbitro hanno fischiato questo dove avrei si il fallo il buona la difesa di Bertolini che si è fatto rispettare ha contestato l'azione di Persico rientra Procaccia 314 con 7 punti di di vantaggio da parte di Piombino che in questo caso deve andare a cercare velocemente delle soluzioni anche importanti per andare a recuperare il gap e giocarsi tutti negli ultimi secondi c'è Iardella sulle tracce di di Zita e Tempestini che si deve vedere con un Procacci che non lo molla che non lo molla ci sono ecco Tempestini con Procacci vicino blocco ottimo niente Bianchi riesce a sporcare il passaggio dei Tempestini e la palla non arriva col pick and roll che aveva fatto con Nasello ecco Procacci che invece era importante questo pallone vero Gianni? molto 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 importante in decisione i due arbitri si guardano la palla prima viene data a viene data a Piombino ed è confermato dal secondo arbitro palla Piombino palla fuori lungo l'azione time out chiesto da Federico Barsotti Gianni si c'è una difficoltà per quanto riguarda le azioni che si fa in attacco bravo Piombino perché abbiamo visto la difesa di Procacci sul Tempestini e la difesa di Fontana però si fa molta difficoltà riuscire a passare il pallone tra le linee della sopra a Piombino difficoltà che si trovano anche come riscontro nei giocatori che non vanno contro la palla cercano di smarcarsi dall'uomo ma non pensano di andare a ricevere il pallone più vicino e questo mette in difficoltà il play ti chiedo conforto la tua opinione i pick and roll di San Minato non sono il massimo dell'espressione cioè non riescono a liberare bene il portatore sul rollante anzi non so se questa è una delle caratteristiche che impediscono poi delle buone traiettorie di passaggio ma sicuramente nell'ultima azione Procacci non ha avuto grossi grossi problemi a seguire i tempestini nonostante il pick and roll giocato è vero è vero proprio per questo riprende la partita riprende la partita con Giardella che va a rimettere e pesca pesca un Persico che si perde perché era praticamente a canestro e qui altra azione sull'asse tempestini Nasello che sinceramente si stanno se Nasello l'abbiamo già coronato anche tempestini sta sorgendo a MVP di questa partita e l'asse sulla quale San Miniato sta cercando di ricostruire un recupero giustamente Bertolini si arrangia su su Persico gli viene fischiato il fallo primo fallo del San Miniato in questo in questo quarto meno cinque con Bianchi che va a cercare un tiro da tre che entra oggi Piombino ha difeso il risultato con la sua difesa col suo dinamismo ma ha vinto la partita con il tiro da tre niente da dire non ha avuto percentuali veramente e se volete sono scaramantico a dire ha vinto nonostante 1.44 al termine e anche questa palla viene persa da San Miniato un tiro che batte sul ferro rimbalzo e naturalmente poi gli arbitri hanno dato palla capitano Bertolini accorciare distanze con il tiro da tre che però non è andato oggi abbiamo già assodato che la precisione al tiro non c'è stata e questo naturalmente ha pagato male ha pagato male San Miniato partita 1.26 si direbbe in tante situazioni partita lunghissima ma ha visto l'andazzo appunto ha visto l'andazzo di tutto il match direi che invece purtroppo è cortissima anche in questo caso è Bianchi perdono Giardella che fa una penetrazione con un mezzo euro step non riesce a trovare il canestro ma va a guadagnarsi altri due tiri liberi naturalmente coach Andreazza richiama quasi subito per evitare transizioni facili si fida fra l'altro del suo giocatore lascia soltanto Bianchi a contendere un rimbalzo in modo da salvaguardare il più nove in questo momento di Piombino su San Miniato che in questo momento diventa più dieci time out di Barsoc si diciamo come si è detto dall'inizio della partita anche se c'è stato questo elastico siamo arrivati a quattro punti ma il Piombino non ha mai mollato ha avuto percentuali come dicevi te Luigi giustamente da tre impressionanti e naturalmente diciamo che sono stati bravi perché hanno tirato anche con l'uomo davanti con l'uomo addosso poche volte direi ma Fontana l'ultimo tiro Fontana comunque oggi era veramente in fiducia però hanno avuto delle buone percentuali abbiamo sofferto in difesa abbiamo sofferto in attacco ma io darei più diciamo sofferenza in attacco che in difesa perché se andiamo a un minuto e venti della termine della partita Piombino ha fatto 68 punti certo noi 58 ma loro ne hanno fatti 68 non sono andati a 80 punti pur avendo quelle percentuali di tiro assolutamente non per nulla noi stiamo leggendo questa partita sotto una chiave diciamo di spiegazione tattica più sulla mancanza di precisione al tiro che non in una mancanza anche perché come si diceva prima il tipo di tiro che veniva preso l'azione che costruiva il tiro era un'azione buona era costruita bene poi se il giocatore in questione non riesce a infilarlo un altro discorso intanto Nasello dopo un'ennesima azione di passaggio nel calcio si deve filtrante qui sarebbe un backdoor di Tempestino se non mi sbaglio nel confronto di Nasello si è andato a guadagnare un fallo cercando di fare uno scarico sulla lunetta si va a pulire il campo il campo nel pitturato Nasello va ai tiri liberi con Tempestini Chiriatti è entrato in questo momento Perin e Giacomelli a fargli compagnia dall'altra parte abbiamo Bianchi Giardella Procacci Persico e Fontana e Fontana squadre due squadre quasi speculari sotto il profilo della fisicità bravo Nasello che ripeto riporta a meno 8 ma a mia parere è stato il migliore fin dall'inizio della partita di San Miniato e ora accompagnato anche da un Tempestini che forse non è che lui si è svegliato totale della squadra qui non stiamo parlando di responsabilità personali ci mancherebbe 1 e 10 al termine meno 8 per per la Blue Card deve recuperare un gap di 8 Procacci che stavolta sulle sue tracce c'è un Perin che vanno a raddoppiare addirittura a triplicarlo niente Chiriatti riprende la sua posizione in difesa Iardella fa scorrere i secondi c'è davanti un Nasello che sta difendendo veramente bene chiedono un passi ma non c'è questa maniera bravissima Fontana fa un lavoro tecnico notevole andando a proteggersi e andando a canestro molto bene bravissima Fontana che si mette in evidenza non solo per il tiro penetrazione di Tempestini che chiede il fallo gli viene dato palla perché è stato toccato da un giocatore di Piombino il quale dice che non è stato toccato anche in questo caso Gianni penetrazione scarico ma non c'era no non c'era Tempestini giustamente ci prova si si diamine per l'amor del cielo questa è la situazione diciamo da dover aspettare con il tiro da fuori libero cercando di vedere se si sblocca qualcosa anche se 10 punti 36 secondi è improbabile approfittiamo della della pulizia adesso del campo da parte degli addetti di Saminiato sul fronte Piombino al di là di fare un merito allo staff della squadra perché l'ha interpretata bene la partita secondo me Piombino e diciamo che abbiamo un procacci sulle stelle perché a mio parere è stato il metronomo assoluto della squadra è quello che ha dato il là è quello che ha dettato i tempi e ha giocato molto bene sotto questo profilo vorrei mettere in evidenza un tiro da 3 a 25 secondi dal termine porta meno 7 con Chiriatti forse un po' troppo tardi continuiamo il discorso rapidissimo Fontana sicuramente è stato letale dal dal perimetro Pedroni forse sotto le sue aspettative è stato penalizzato dai falli quindi questo può averlo condizionato io al di là di Procacci direi che Piombino è una squadra che merita la classifica e forse anche qualcosa di più non è eclatante ma è solida ed è una squadra che ha dimostrato questa sera di essere costante in tutti i 40 minuti ed è questo che è molto importante perché non ha avuto dei cali a me c'è stato un momento solo che ha avuto uno sbandamento e l'ha saputo recuperare proprio però l'ha saputo recuperare oddio ha aiutato ha aiutato bene è una squadra che anche l'ha saputa ruotare abbastanza bene perché non ha portato giocatori stanchi in fondo hanno giocatori giovani meno giovani però è un buon mix c'è una squadra che è un buon mix io volevo dire una cosa però a questo proposito per quanto riguarda la Blue Card i giovani i giovani nuovi innesti che ci sono stati quest'anno che hanno dato qualcosa in più questa sera mi sono piaciuti sì molto bene ora riprende la partita è qui per inci prova a fare faro sul crocacci un bello giustamente un bello scontro anche a livello fisico sono due robusti interpreti della materia anche onesti sotto il profilo del contendere 25 secondi 25 secondi Andreazza che si sta sgolando per evitare sorprese viene chiamato un altro fallo un po' si lo mandano praticamente in lunetta Iardella per andare a giocarsela sugli errori eventuali dei tiri liberi di Piombino errori che almeno nel primo tempo non è che ne abbiamo visti tantissimi dal momento che nel primo tempo hanno viaggiato sull'82% con 9 su 11 diciamo che ci sono delle danze maori per evitare un canestro da parte di Iardella sulle spalti del Blue Kart entrano tutti Persico direi che leggermente in anticipo e infatti no viene assegnato il punto e time out l'ultimo in mano a Barsotti per richiamare i giocatori negli ultimi 23-24 secondi 23-8 e vedere di riprendere una partita che sul meno 8 è particolarmente ardua naturalmente la basket è pazzesco si può sperare fino all'ultimo secondo e giustamente Barsotti che è un competitivo per nascita natura e tutto anche perché sono tre possesse di palla e tre possesse di palla in 23 secondi non è non è facile non credo che la Soviet Piombino va dal fallo sistematico penso proprio che non ci pensi nemmeno no casomai sarà la Blucat che va al fallo sistematico per non far far canestro lasceranno lasceranno sicuramente al tiro io vorrei dire spondere queste parole per la solpata molto realmente l'allenatore del Piombino si è accorto della non buona vena del tiro da fuori della Blucat e ha impostato la partita con un altro tipo di difesa lasciandoli lasciandoli giocare da fuori col tiro da fuori ultima azione è qui fallo su Chiriatti che riuscita a penetrare a fare un passaggio un assist ma l'arbitro ha fermato l'azione per concedere appunto il fallo a Procacci il fallo a Procacci sì sì in su al 6 il quarto fallo di Procacci Chiriatti gioco fermo tempo cronometro fermo due tiri può provare ad andare a meno 6 che è un numero che ha illuso per tutta la partita e gli sparti di San Mignato sarebbero due due tiri due passassi pieni è ovvio che lo sport è meraviglioso anche perché si spera fino all'ultimo nel miracolo però è probabile che che Piombino riesca a gestire questi ultimi minuti vediamo come reagiranno i ragazzi di Federico Varsotti al quale sotto il profilo della grinta non possiamo assolutamente ne improverare niente no 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 assolutamente no e infatti si mettono subito in pressione in pressing su e vanno e infatti il fallo immediato di Perin ha provato più quasi a rubagliare la palla avendo fatto il doppio immediato e rientra Tempestini si rientra Tempestini quarto di Perin ah quarto di Perin che ora sono quelle fasi meravigliose del basket dove c'è il fallo poi due tiri liberi poi la rimessa e sono fasi però più lunghe più lunghe della partita sono più lunghe della partita fanno parte però anche della scenografia coreografia chiamiamola perché è un balletto di movimenti e di scelte bravissima Fontana che per tutta la partita ha dimostrato una grandissima precisione e che affiancherei a Procacci come MVP del Piombino movimento Nash di è la partita finish buono il movimento di Tempestini sotto il canestro si scarica per un Chiliati che va a sbattere contro Persico ti lascio la conclusione di una partita che lascia qualcosa io proprio due cose che lascia la mano in bocca per chi aveva la possibilità di farla sua ha perso l'occasione di farlo questo è vero perché sinceramente da come si sono allenati tutta la settimana da quello che era diciamo la grinta dei ragazzi questa era una partita della loro portata sicuramente ripeto il primo tempino Angelo ha detto sì ma quando sei sotto sei 20 a 9 cerchi sempre di giocare la partita di portarla in casa però 20 a 9 è un parziale che ci ha penalizzato parecchio abbiamo cercato di rimontare ci siamo andati a 4 punti però applauso a Piombino un applauso ai ragazzi che mercoledì andranno a giocare un'altra brutta partita e speriamo che la portino portino il risultato da fuori casa il materiale c'è Federico Barsotti una sicurezza lo aspettiamo ai nostri microfoni per un'intervista finale e chiudiamo qui la telecronaca della partita rimandando gli spettatori ovviamente su TVL Sport per per vederla e alla prossima partita in casa e un saluto da Luigi Magliano Gianni Cecconi e da Angelo Capozio che hai dovuto scappare via per impegni personali arrivederci 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 grazie a tutti